musica voi vi chiederete come faccio a trovare i funghi di notte con una bella torcia che illumina se andiamo a vedere piano piano cosa c'è qua un bel porcino è bellissimo vediamo se c'è qualcos'altro un altro porcino vediamo piano piano a vedere se c'è qualcos'altro c'è qualcos'altro c'è qualcos'altro oh guarda qui che meraviglia un altro bel porcino guarda chiama pure meraviglioso allora chissà come andrà se li cerchiamo bene bene guarda qua che spettacolo che bel fungo ma guarda che meraviglia e questo è quello che si trova la notte però è anche pericoloso andare a funghi di notte perché ossia di buoni conoscitori del posto che dunque si rischia di farsi male anche a parecchi quindi non rieschiati bellissimo porcino aureus giovanissimo bello 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 e qui abbiamo un macinator maci di notte ma che fungo abbiamo trovato qua non pure ma che cazzo di gambo ha ma che gambo ha andiamolo un po' a vedere si ma allungati con la mano pennellata ma guarda un po' qua guarda un po' qua cosa c'ha ma guarda qui che gambo ma che fungo ha ma che fungo ha chi dici un po' la mano guarda un po' qui oh si oh si un fungo gigante vieni qua guarda un po' qui che roba ma guarda qui che roba andrò più indietro se no porca puttana ragazzi ma che gambo ha è largissimo guarda qua misura una spanna di un fungo gigantesco guarda che cappello ma che spettacolo mamma mia ecco questo qui è da record come gambo perché un gambo così te lo giuro non l'ho mai visto guarda che cappello ma guarda qua guarda la mia testa ma pensate oh ma porca ah 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 andiamo avanti ecco massi che blade detto blade che con il macina anche lui ha battezzato stanotte con un bel fungone ora lo andiamo a vedere ma che fungone è ma che bel fungone è mamma mia un bel bertonazzo un bel boletus spinophilus e bravo blade fallo vedere qua gli amici un bel porcinazzo è bello eh eh sì 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 e blade sta comportando bene il macina lo porta nei posti buoni e blade colpisce bravo blade è bella uguale alla mia ah 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 dai a dopo vediamo se troviamo dell'altro ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti